Tornano a ripetersi e ad essere segnalati episodi di vandalismo al Pentagono. Nello specifico, nella notte tra lunedì e martedì, ad essere stati presi di mira sono stati due condomini, uno situato in via Ariani, l'altro in via Veretti. I residenti delle due pallazzine hanno allertato la polizia locale dopo aver avvertito il grande trambusto proveniente dall'ingresso degli stabili. All'arrivo degli agenti le amare scoperte. I portoni d'ingresso dei due stabili sono stati fortemente danneggiati, con le vetrate sfondate per quello del condominio di via Veretti e parzialmente distrutte invece per quello di via Ariani. Per risalire agli autori del gesto, gli agenti hanno subito dato il via alle indagini e ai controlli, potendo usufruire anche delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nelle palazzine. Secondo le prime ricostruzioni derivanti dalla visione dei filmati, sarebbero tre le persone protagoniste degli atti vandalici. I tre individui, dopo aver danneggiato i due portoni, sarebbero riusciti ad allontanarsi dall'area prima dell'arrivo e dell'intervento dei vigili. I residenti affermano che quelli intercorsi la scorsa notte non sono episodi singoli o isolati, ma rientrano nell'ampio quadro di atti vandalici che da diverso tempo vengono segnalati nell'area. In merito a ciò, nel quartiere Pentagono Celletta, a partire da gennaio, è iniziata da parte dei residenti una raccolta firme per chiedere al Comune l'installazione di nuove videocamere di sicurezza. L'iniziativa, documentata dalle nostre telecamere già dalla sua nascita, ha avuto origine dopo gli atti vandalici riscontrati contro alcune automobili parcheggiate e dopo anni di segnalazioni relative a danni e disturbo alla quiete pubblica nel parco Baden-Powell. Ad oggi sono state 181 le adesioni raccolte e le raccomandate sono state inoltrate al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e al prefetto Vittorio Lapolla.